benedetto tu sia o signore nostro il dio che ci hai benedetti con le tue leggi e procurato il pane della terra per voi da ora questo non sarà più il pane del passaggio dei nostri padri dalla prigionia alla libertà questa Pasqua è per voi oggi il passaggio dalla prigionia della morte alla libertà della vita questo è il pane della vita chiunque mangia questo pane vivrà eternamente prendete e mangiate ecco ecco questo è il mio corpo fate questo in memoria di me grazie a tutti d'ora in avanti questo calice non sarà solo memoriale e sacramento del fatto che dio suggellò con i nostri padri questo è il mio sangue il sangue della nuova alleanza che sarà versato per tutti gli uomini io non tornerò a avere con voi il frutto della vita finché non sarò entrato nel regno di mio padre e lo berremo insieme e ora vi lascio un nuovo comandamento che vi amiate che vi amiate l'un l'altro come vi ho amato io non c'è amore più grande di questo dare la vita per la salvezza di un amico e se vi amerete in questo modo tutti vi riconosceranno come miei discepoli padre l'ora è arrivata glorifica il figlio tuo perché il figlio glorifichi te conservano il tuo nome benedetto quelli che mi hai affidato ma non soltanto loro proteggi tutti quelli che avranno fede in me attraverso loro io sono la via la verità e la vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti